A poche settimane dalla fine dei campionati è arrivato il primo vero colpo di mercato dell'anno. A metto l'assegno è stato il Chelsea, dove dalla prossima stagione si accaserà il gioiellino del Lille e Den Hazard. Il 21enne nazionale belga ha rivelato sul proprio sito Twitter che prossimo anno giocherà per la squadra vincitrice dell'ultima Champions League. Il centrocampista ha segnato 20 gol in Ligue 1 ed era da tempo l'obiettivo di molti club inglesi, tra cui pure il Manchester United. A spuntarla però sono stati i Blues che si sono assicurati uno dei più giovani talenti europei.